Sale dal 12 al 20% il tasso di positività da Covid-19 in Sicilia, con 3.675 nuovi casi su 18.173 tamponi processati rispetto ai 757 del giorno precedente. Attualmente il numero totale dei positivi in Sicilia si ferma a 45.955, con una diminuzione di 16.920 casi. I guariti sono 20.965. Per quanto riguarda i dati nel Nisseno, nelle ultime 24 ore si sono registrati 203 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio i numeri parlano di 79 pazienti di Gela, 50 di Caltanissetta, 15 di San Cataldo, 14 di Niscemi, 9 di Milena, 5 di Campofranco, Mazzarino e Serra di Falco, 4 di Riesi e Vallelunga, 3 di Acquavive e Santa Caterina, 2 di Butera e 1 a Delia, Mussomeli, Resuttano, Sommatino e Sutera. Sono attualmente ricoverate in degenza ordinaria una persona a Caltanissetta e 1 a Gela. Sono invece 78 le persone guarite dal Covid a Gela, 25 a Caltanissetta, 13 a Niscemi, 6 a Serra di Falco, 5 a Butera e Mussomeli, 4 a San Cataldo e Sommatino, 2 a Delia, Marianopoli, Milena, Riesi e Sutera, 1 a Bonpensiere, Mazzarino, Montedoro, Santa Caterina e Vallelunga.